La determinazione e l'impegno nella vita, prima o poi, voglio dire, ci si riesce. La ciocciara che fece tremare Hollywood, Sofia Loren, in un omaggio di Lady Letizia. Alla mia icona è Sofia Loren, è una napoletana che è volata a Hollywood e io vorrei essere una napoletana che vuole a Las Vegas. Sono sposata da dieci anni, ho un figlio di nove anni e quindi la mia vita avviene tutta qui, in casa mia, con i miei due uomini e per loro sono un'eroina. Per mio marito io sono sempre stata la sua Claudia Von Teese. Ho lavorato l'anno scorso a Canale 9, a Telegaribaldi ero la precaria. Due anni fa, Canale 34, tifosi in Averture. Precedentemente Canale 5, Ciao Darwin, ancora precedentemente abbiato tra le donne, Canale 5, sempre buono. Ciao, la settimana scorsa, ho registrato la settimana scorsa il programma di solito mio, con Fabio Giovezzi, andrà in un'altra propria sera, domani. Ciao, la settimana scorsa, ho registrato la grande apposizione. C'è un ruolo, c'è un ruolo, c'è un ruolo C'è un ruolo C'è un ruolo, c'è un ruolo, c'è un ruolo C'è un ruolo, c'è un ruolo C'è un ruolo, c'è un ruolo 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 La vita è come una scatola di cioccolatini Non sai mai quello che ti capita Sono qui per vincere Non è che posso stare lontano da mio figlio e perdere tempo ragazzi C'è un ruolo C'è un ruolo C'è un ruolo